non riesco mai a dare volume ai capelli specialmente nella parte della radice infatti risultano sempre essere piatti beh ovviamente i capelli sono lunghi e sottili hanno la necessità di dell'utilizzo di un prodotto fondamentale per creare un po più di texture e volume all'attaccatura e il prodotto che posso consigliarti e amplifying mousse va applicato solo ed esclusivamente all'attaccatura alla radice e leggermente distanti dalla radice quindi circa 10 cm per una corretta applicazione e una buona distribuzione vuoi farlo anche tu vuoi trovare brava delle piccole sezioni distante 10 cm fantastico una volta che lo hai messo sull'attaccatura gli dai una leggera massaggiatina in modo da distribuirlo bene su tutte le radici passiamo allo styling è il movimento che devi fare con la spazzola che ti mostro per far sì che i capelli abbiano un po di volume sull'attaccatura cosa ne pensi è vero è vero sono molto più voluminosi